Buongiorno e buona domenica a tutti, bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Vediamo subito le principali notizie del giorno e leggiamo il quotidiano del Molise. Dove nel taglio centrale troviamo la sanità, leva a frattura ci illustri il suo progetto, l'invito dopo che il governatore ha bocciato la proposta di ruta. Il presidente e l'unimol non ha le risorse necessarie per gestire l'ospedale Cardarelli. Isernia al veneziale oculistica fuori uso è polemica. Cratere ricostruzione ciocca altri 2 milioni in arrivo. Venafro in fuga sul furgone stracolmo di alimenti. Termoli svaliggia negozi arrestato. Vediamo nel taglio alto si parla di Frane, 200 km di strade distrutte e si stimano danni che superano i 10 milioni. Campobasso, mini impianto a biomasse, si alza il coro dei no. Ancora Campobasso, antenna telecom, il tarra rigetta il ricorso del colosso della telefonia. Nel taglio basso del quotidiano del Molise troviamo lo sport, lupi a Giulianova per la continuità, a Termoli nel mirino c'è il poker. L'Olimpia agnonese ospita il temibile San Nicolò. Eccellenza, il Venafro impone il 2 a 2 alla dauna Fornelli-Travolto. Promozione Montenero-Straripante, Ripa-Retrocede, Pari-San Martino. Calcio a 5 serie B, vincono Isernia e Venafro win battuta. Passiamo adesso al quotidiano online Futuro Molise. Vediamo anche qui le principali notizie di questa domenica. Campobasso con la Giovanni, con Trada-Mascione non si tocca, no alle biomasse. Ricostruzione post-sisma 2002, nuovi accreditamenti, continua lo scorrimento delle pratiche da liquidare. Bilaterali al Ministero del Lavoro sul piano Garanzia Giovani, sull'ITR e sui bandi per l'occupazione. Vediamo adesso primo piano Molise. Anche qui si parla di sanità nel taglio centrale, scintille nel PD, leva pronti alle dimissioni per salvare i nostri ospedali. Frattura boccia il policlinico, il deputato Demma attacca, dice ai cittadini di rassegnarsi al fatto che il Cardarelli diventi un presidio di serie B. La provocazione dell'onorevole Di Fornelli contro il decreto Balduzzi. Piazza Michele De Nigris, per onorare la memoria dell'autore del Teco Vorrei, oggi pomeriggio la cerimonia. Campobasso, antenna a Vazzieri, battuta la tele come il Tarra da ragione al Comitato Civico. Nel taglio alto, biomasse a Mascione, i centristi della maggioranza prendono le distanze, no alla centrale. Sotto accusa finisce l'assessore Chierchia. Svaleggiava il garage di Termoli, ladro arrestato durante un furto nella notte, il 41enne da tempo terrorizzava i residenti. Veneziale alvia la petizione popolare da inviare a Mattarella, intanto da tre mesi sono bloccati gli interventi a oculistica. Vediamo le notizie di sport. Lupi, valore estremo da dimostrare, Termoli e Agnone, incroci salvezza. Calcio regionale, da una pari in casa del Venafro, Fornelli asfaltato, ripa retrocede. Palla a volo, l'Europea 92 vicina alla B1, 3 a 1 nel big match con la Megaride. Motociclismo, GP del Qatar, quarto tempo per Iannone sul circuito di Los Ailes. Passiamo adesso alla Gazzetta del Molise, vediamo la prima pagina di oggi. L'Oscar del giorno viene assegnato a Oreste Campopiano, mentre il tapiro del giorno a Micaela Fanelli e vediamo anche una rappresentazione della crocifissione con i politici locali. Passiamo adesso all'altro quotidiano online in forma molise. Ecco la pagina di attualità. Arrestato, 41enne per furto aggravato ai danni di numerosi proprietari di garage di Termoli. Ampliamento, momentive, l'ultima parola sia dei termolesi. Zuccherificio convocato incontro presso l'assessorato alle politiche agricole. Serie D, Girone F, convocati della gara Giulianova, Campobazzo. Formez bandisce concorso pubblico per 120 funzionari. Tra sabato 28 e domenica 29 torna l'ora regale e lancette avanti di un'ora. Ricostruzione post-sisma 2002, nuovi accreditamenti continuano lo scorrimento delle pratiche da liquidare. All'auditorium di Sernia, la convention musicale dei giovani delle diocesi. Leva a frattura, dica a noi ai molissani come vuole affrontare almeno per una volta una questione. E passiamo alla stampa nazionale, leggiamo insieme i titoli di oggi della Gazzetta del Mezzogiorno. Landini, show anti Renzi, è peggio di Berlusconi, bacio sul palco con la Camusso. In Puglia, Vitali apre i ricostruttori e preme su Schitulli. Il premier lo snobba, stiamo cambiando sistema, vendo la realtà nascosta dalla propaganda. Il giorno dopo l'assoluzione, Amanda e Raffaele pensano i danni per i quattro anni in carcere. le contorte strade della giustizia all'italiana. BPP in crescita e pronta alle nuove sfide, parla Iacobini. E c'è anche una notizia di sport nel taglio basso. Solo un pari, l'Italia spreca l'occasione Bulgaria. Calcio oggi in campo, il Bari. E vediamo i titoli dell'avvenire. Dall'Expo, la semina di un'Italia nuova, Mattarella, impegno contro i tentativi di corruzione. A un mese dall'inaugurazione, il Presidente della Repubblica evoca le potenzialità dell'evento planetario. Terra dei fuochi, emblema del degrado. La proposta, carta di Milano, il cibo diventi diritto umano. Emergenza economica e ambientale. Exilella, il flaggello che uccide gli ulivi del Salento. Sfida di Landini a Renzi. Il governo vede il PIL a più 0,7%. FIOM in piazza. Roma contro il Jobs Act. Il Premier stiamo scrostando il paese. Famiglie numerose. Il bonus è ancora un fantasma. E vediamo adesso insieme lo sport leggendo la gazzetta sportiva. L'Oriundo è con te. Ed era al debutto. Entra e salva una brutta nazionale. Verratti delude. Tavecchio. Il CT si sente vilipeso. Ma resta. L'addio però è possibile. Euro 2016. In Bulgaria l'Italia. Ciuffa il 2 a 2. Tormenti però rimangono. Il caso. Marchisio. Sabato già in campo. Scendiamo nel taglio basso. Capello. Costretti dall'UEFA a giocare in mezzo al caos. Serie B. Carpi in volo. Vince anche Vicenza. Risveglio. Bologna. Nel taglio alto della gazzetta sportiva invece troviamo il MotoGP. Dovizioso. Lampo nel deserto. Ducati. Partenpol. Rossi. Soltanto ottavo. Qatar ore 20. Vettel. Una Tigre in Malesia. Ferrari in prima fila. Ma Kimi litiga col team. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Vi lascio ora le previsioni del tempo. Vi ricordo anche la nostra informazione alle ore 13 e 50. Arrivederci. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione primavera bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per domenica 29 marzo. Ci sono buone notizie per gran parte della penisola grazie a un più deciso rinforzo di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. L'alta pressione si estenderà fin verso le regioni meridionali dello stivale. Ne conseguirà quindi una giornata all'insegna della stabilità e del bel tempo anche sul sud-est con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul Molise. Temperatura senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione tesa dai quadranti nord-occidentali con mari fino a molto mossi, specie a largo e lungo il litorale adriatico. Queste le temperature nel dettaglio. Campo basso minima 3, massima 10. Sernia minima 6, massima 16. Termoli minima 10, massima 15 gradi. Il meteo è stato offerto da Iscriviti alla sezione primavera bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Grazie.